prossima e ultima fermata Castagnola prossima fermata Posta Castagnola prossima fermata San Domenico prossima fermata Serenella prossima fermata Villa Favorita prossima fermata Cassarate Montebre prossima fermata Lanchetta prossima fermata Lido prossima fermata Palazzo Studi prossima fermata Palazzo Congressi prossima fermata Lugano Centro prossima fermata Via Ginevra prossima fermata Via Ferruccio Pelli prossima fermata Ai Frati prossima fermata Stazione FFS prossima fermata Bella Vista prossima fermata Tassino prossima fermata Loretto prossima fermata Cassarina prossima fermata Santa Birgitta prossima fermata prossima fermata prossima fermata prossima fermata Funicolare San Salvatore prossima fermata Via Cattori prossima fermata